Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 con i nostri gamberetti della conquista del mondo Prima di partire col video, come ogni volta ragazzoli, io vi ringrazio per i commenti, per i like, per i suggerimenti che mi darete, per il supporto che state dando e che darete a questa serie E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941, link in descrizione E se eventualmente volete supportare il canale con delle piccole donazioni, trovate anche lì il link per poterlo fare Detto questo, partiamo con il video Ok ragazzoli, allora andiamo avanti con il calendario, andiamo avanti con il calendario Ormai diciamo che la stagione è praticamente finita, abbiamo le ultime partite di campionato Braxton l'abbiamo venduto tutto buono e bini ritto Naga, Morris, Sullivan, Mariani, Raid, Nicholson Diamo un turno di riposo, tanto contro il Wilgam perdiamo sicuro raga Diamo un turno di riposo al Raid, Nicholson, Lee's, Hamilton, Wood e Raja Eh, va bene, va bene così Tanto, aspettate Cunningham, Braxton, sì, ok, va bene Aspetta, io però il portiere me lo devo portare, scusate Un portiere di riserva non si può mai sapere Fuori Slow, Slow se non sbaglio l'abbiamo venduto pure Dovrebbe essere pure stato venduto Però già, ce l'abbiamo i sostituti raga Abbiamo anche il The Rock dei poveri che dovrà tornare dal prestito praticamente Quindi Eh, la prossima stagione dovremo fare un po' più un mercato più Mh, più preciso, più preciso Dovremmo riuscire a Vedere, mamma mia, loro vengono a quattro vittorie di fila E noi che ce fiamo? Ci vinciamo, vinciamo contro il Wilgam raga Spettacolo Spettacolo, 2 a 1 Grandissima vittoria Gol di Naga e di Nicholson E se è rotto però Harwood E' uscito Harwood per Mitchell Aia, aia, è dovuto uscire con l'ambulanza addirittura Aia, ho paura per Harwood, signori miei Ho paura per Harwood Ho paura per Harwood Facciamo gli allenamenti intanto Facciamo gli allenamenti Hamilton sale a 64 Casa Dei sale a 64 Cunningham sale a 46 Buono così raga, buono così Buono così Mi sta piacendo, mi sta piacendo Stiamo salendo bene, stiamo salendo bene Andiamo a vedere le meli che ho paura Giocatore infortunato, 5 settimane per Harwood Mannaggia L'abbiamo perso proprio sul fine di stagione E tutte Apprezziamo l'impegno di tutte Ne ha giocata una sola Però è contento E va bene, è bello anche questo Allora, andiamo avanti Andiamo avanti Siamo al primo di maggio Primo di maggio La prossima partita, quando il primo di maggio Abbiamo una serie di mail Allora, secondo squadra mensile Del giovanini Poi vediamo Tonev vuole giocare Va bene, Tonev gli diamo fiducia Ci sta Dove essere l'ultima partita di campionato Signori miei Allora Naga Morris Sullivan, Mariani No, qui tornano i titolarissimi Wilding, ok Nicholson fuori per Tonev Nonostante non sia più Il nostro titolare fisso Follinzei per McKinley Hamilton Qui mandiamo dentro Bulu Anche se non è per niente contento Mitchell, ok Abbiamo qualcuno che non può giocare No, va bene così Ok, giochiamoci l'ultima di campionato Signori miei Giochiamoci l'ultima Dove essere l'ultima di campionato In casa contro il Blackpool No, non ci fanno manco la Vengono da tre sconfitte di fila Che ci fanno noi? Chiudiamo in bellezza, raga Chiudiamo in bellezza Pareggiamo Porca miseria L'abbiamo presa all'ottantaseesimo Addirittura Ha espulso Mitchell Ma dai Ma dai Ma che chiusura di Di marmellata Ma dai Pareggiato E con l'uomo Espulso al ventiquattresimo Ma porca miseria Dai Ma aspettavo un finale migliore Va bene Allora Tante mail sono arrivate Allora Facciamo ancora questi allenamenti Raga Cunningham Stalla a 47 Buono così Buono così Ora vediamo un attimino Di sistemare giusti gli allenamenti Raga Così ci prepariamo la squadra Per l'anno prossimo Allora Vediamo tutte le mail Che sono arrivate Non stiamo seguendo i piani Aggiornamento del riservatore Oh Vediamo cosa ci hanno portato Al Brasile Michael Cruz 71-91 L'ho detto Questo sarà un attaccante esterno Sicuro Continuiamo a seguirlo Carlos Nins 69-93 Questa è tanta roba Questa è tanta roba Continuiamo a seguirlo Pedro Jesus Questo è il fratello di quello L'altra volta 51-69 No Bruno Ferreira 52-70 Non ne posso più di portieri Alessandro Branco 62-86 No Questi due lì Comentiamo a seguire Raga Ma saranno due attaccanti esterni Sicuro All'anno i mar E non ci gioco Gli attaccanti esterni Michel Dall'Argentina Ci ha portato Germano Romero 53-71 Questo è indeciso Gioca in qualsiasi posizione Nel campo Ma non ci serve Alberto Bello Ma questo è solo per il nome Raga Andrebbe preso Alberto Bello E' bello Alberto Bello mio Però 54-72 No E invece Oscar Oscar Ponce 58-80 Oddio uno buono Dall'Argentina Porca miseria E poi Lorei Dal Giappone con furore Keniki Natsume 56-78 No Hayato Kawaki 54-74 Gran potenziale Gran valore 240 ma c'ha un potenziale bassissimo No Isaki Sasaki Un altro portiere Non ne posso più riprendere portiere Raga Yamato Sasaki 63-43 No Uno buono Kurkawa 60-80 Niente Mamma mia Mamma mia Giocatore squalificato Mitchell per una partita Va bene Chi è che vuole parlare con noi? Tonev La ringrazio Prestazione a Torrevole Bravo Tonev Bravo il mio Tonev Andiamo avanti Se non sbaglio La stagione è finita Non dovrebbero esserci più partite Può essere? Non stiamo seguendo i piani Me l'hai già detto prima Me l'hai già detto prima Non dovrebbero esserci più partite Se non sbaglio No Sì Dovrebbe essere finita la stagione Raga Dovrebbe essere finita la stagione Arriviamo al prossimo allenamento Che ci fermiamo Ok E andiamo a vedere un attimino Allora Il discorso allenamento Allora Naga lo teniamo Perché deve diventare il nostro attaccante di punta Hamilton pure Mitchell sull'esterno sinistro Direi che per ora Ce lo possiamo anche fermare E possiamo mettere ad allenare Allora Vediamo un attimino Portieri Siamo messi alla stragrande Raga Potremmo fare allenare un altro po' Come Killey Così da avere proprio in difesa La sicurezza Anche se Taylor Alleniamo Taylor Raga Perché abbiamo bisogno di un secondo portiere Che sappia parare In un caso qualsiasi Poi Sulla destra Casa Dei Mi sembra che sta crescendo bene L'Otrre e Cane Va bene Continuiamo così però Raga Perché Casa Dei Sulla destra Mi serve che cresca Così possa avere la certezza Di avere un buon sostituto Con Sullivan Così lì non tocchiamo Assolutamente niente Sulla sinistra Siamo coperti bene In difesa Se Hamilton continua a salire Siamo coperti pure bene Facciamo salire un attimino Il secondo portiere Così E' tanta roba I due giovani portieri Me li potrei portare pure Portare in panchina Me li potrei portare pure In squadra Così Li diamo in Vediamo di darli in prestito L'anno prossimo O quantomeno ne portiamo uno Premio di torneo Oh Sono arrivato Alcune email interessanti Vediamo un attimino Giocatore ristabilito Howard Si è ristabilito Premio di torneo Un milione Per la League One Per esserci posizionati In League One In quattordicesima posizione Ok Continuiamo con gli allenamenti Hamilton diventa un 65 Bravo Cunningham diventa un 48 Dai Cunningham mio Devi crescere zio Che non posso Mi servi Mi servi come il pane anche tu Mi servi come il pane anche tu Andiamo avanti con gli allenamenti Andiamo avanti Andiamo avanti col tempo Io direi che possiamo anche Concludere questa stagione In questo video raga Così praticamente Il prossimo video Partiamo con la nuova stagione Giovene vuole andare via Davide Esposito Davide Esposito è l'attaccante sinistro Davide Esposito lo mando via Non ho che farmene Sono sincero Non ho niente che farmene No Davide Esposito All'esterno sinistro Davide Esposito vuole andare via No Lui lo promuoviamo Signori miei Lui lo promuoviamo L'anno prossimo vendiamo Tonev L'anno prossimo vendiamo Tonev Lui lo abbiamo promosso L'abbiamo promosso Yes No 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 Dobbiamo promosso Dobbiamo sistemare gli allenamenti Raga Dobbiamo sistemare gli allenamenti Andiamo avanti Andiamo avanti Abbiamo tutto il mese di giugno e maggio Per continuare ad allenare E lo dobbiamo fare Lo dobbiamo fare Allora Dobbiamo far crescere un attimino I nostri giovani giusti Naga Hamilton Taylor Casa Dei Allora Casa Dei Facciamo l'errore a 65 Ehm Canina va bene dai Taylor Saluta a 67 Naga diventa un 66 Buono 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 Dai così Dai così raga Io devo far allenare A centrocampo anche Mariani Mariani e l'esterno sinistra Che abbiamo preso ora dalla primavera Devo mettere loro pure ad allenarsi Raga Così praticamente siamo coperti Per l'anno prossimo Così per l'anno prossimo Possiamo vendere i vecchietti Diciamo Chiamiamoli così Possiamo vendere i vecchietti Fermiamoci Contratti giocatori di scadenza Aspettate un attimo Fatemi fare gli allenamenti Allora Casa Dei non è salito Naga per ora lo fermiamo È un 66 Penso che sia abbastanza buono Mettiamo Mariani Che mi deve salire un botto Ehm Devi imparare a fare il Potenzione d'attacco Ma da che stai a dire? Sei un centrocampista Maria Ehm Controllo palla Dribbling Ehm Servi per qualcosa di Controllo palla Dribbling Veloce da scatto E agilità Se no Intercettazione controllo piedi Scivolata Ecco Questo Lì devi allenarti Mariani mio E poi Direi di levare No Casa Dei ancora non è salito Facciamo salire Casa Dei A 65 Perfetto Canning ha diventato un 49 Perfetto Mariani non ha capito niente Di come doveva allenarsi Va bene Ha preso una D Pesantissima Però va bene Ehm Contratti scadenza Di chi? Tutte in scadenza Tutte in scadenza Ehm Rinnoviamogli Raga Rinnoviamogli il contratto a tutte Così l'anno prossimo possiamo venderlo giusto Allora tutte Lui prende 1 e 9 Delighiamo il rinnovo 1 e 5 e 2 e 2 Avanti Va bene Accetta Per due anni Ehm Braxton Braxton l'abbiamo venduto Se non sbaglio Braxton l'abbiamo venduto Tone vè in scadenza Ma lo dobbiamo venderlo l'anno prossimo Lui prende 4 e 7 Delighiamo il rinnovo 2 e 4 e 2 e 3 Perfetto Si è pure ridotto lo stipendio Grande Wilding Lo rinnoviamo così l'anno prossimo lo vendiamo 2 e 3 2 e 1 e 2 e 9 Bravo Wilding Ehm Poi Stockholm Stockholm glielo rinnoviamo pure così lo vendiamo pure l'anno prossimo Lui o Let Schmidt Vediamo un attimino come Possiamo metterci Ok Slow Se non sbaglio l'abbiamo venduto Slow E infatti Let Schmidt glielo rinnoviamo pure Prende 2 e 2 E si vuole anche 2 ridurre lo stipendio Accetta come turnover Ma porca miseria McKinley lo dobbiamo rinnovare per forza raga 500 Ne prende 500 Ne vuole 700 e 1 milione Perfetto Cruciale Accetta McKinley per forza Taylor Dobbiamo darci noi Mitchell pure Mitchell pure pure Delega rinnovo 700 Importante Perfetto Bullo l'abbiamo venduto Hamilton Rinnoviamo pure Ce l'abbiamo per i soldi raga Quindi rinnoviamo Prende 500 Ne vuole 700 e 1 milione Importante Bravo Hamilton Sutton Lasciamo perdere Tone Ve li abbiamo appena rinnovato Nicholson Rinnoviamo Rinnoviamo a Nicholson Signori miei 2 e 1 Perfetto Cruciale Va bene Sì Tanto Tone Ve lo vendiamo Va bene Ok Abbiamo rinnovato un po' di contratti Che ci stava Ci stava Andiamo avanti Possiamo fare allenamenti No Andiamo avanti Vediamo cosa arriva qui Come osservatori Il secondo mentire Squadra giovane Non ci interessa Andiamo avanti Facciamo arrivare gli osservatori Perfetto Anzi andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Perfetto Ok Così possiamo fare anche gli allenamenti Vediamo un attimino Non stiamo seguendo i piani Aggiornamento di Nichi Nichi dal Brasile Ah infatti È un attaccante esterno Non ci serve Michael Cruz Michael Cruz Carlos Lins Lo teniamo ancora Michael Cruz Non ci serve Rifiuta Carlos lo teniamo Perché se magari È un attaccante centrale Ci potrebbe servire Fabio Ribeiro 62-80 No Guglielmo Alvares 71-94 Porca miseria Scusate Mi sono un attimo bloccato Porca miseria Lo prendiamo subito questo Alfonso Cabral No Pedro Jesus No Per quanto potreste essere interessante Fai schifo Brenno Fernandez Rifiutato Ok Continuiamo a servare lui McKinley Dall'Argentina Ci ha portato Pablo Avila 69 No George Cano 82 No È vera Mamma mia Che gioco Terribile In Argentina Elorei Dal Giappone Con furore Yamamoto 65-89 400 Questo lo metti dentro Poi vediamo Shushu Watanabe 77-94 Questo lo metti dentro pure Isshara No E poi Tanijuki No Ok Va bene così Andiamo a vedere Andiamo a fare gli allenamenti Raga Casadei Taylor Mariani Hamilton Sì Sì va bene Va bene così Andiamo avanti Andiamo avanti Cunningham Sala 50 Bravo Cunningham Bravo Cunningham Che si allena meglio di Mariani Potrebbe rubargli il posto Attenzione Attenzione Brivido Brivido Allora Facciamo una cosa Andiamo a vedere questi giovani Che ci siamo presi adesso Non ricordo niente chi siano Allora Brennan Reis Ok Watanabe Un TS Ah E TS ce l'abbiamo Porca miseria Va bene Yamamoto Un COC Che non è male Alex con sesamo Portiere Eduardo Rossi L'attaccante sinistro Guillermo Alvares Un COC Un altro centrocampista Va bene Va bene Di 15 anni Va bene Quindi praticamente L'unico lui interessante Ma è un TS Ma non è TS Era meglio se era un TD Praticamente Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Va bene No Di qua Ok Abbiamo l'ultimo mese In cui dobbiamo spararci Gli ultimi allenamenti Signori miei Gli ultimi allenamenti Ci li facciamo assieme Tanto ormai così Concludiamo la serie Tutta quanta assieme Andiamo avanti Vediamo se qualcosa migliora Da qua A fine A fine A fine A fine mese E stoppiti Anzi no Facciamo una cosa raga Chiudo il video qui Tanto ormai in giugno Me lo porto avanti io E noi ci vediamo domani Sempre con la serie delle 7 In cui inizieremo La nuova stagione raga Quindi ci andremo a fare Le prime giornate di mercato I primi E le prime situazioni Le andremo a esplorare Tutte quanta assieme Detto questo video Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E noi ci vediamo sempre qui domani Con un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao